Ho ho ho! Il tour di Babbo Natale sta arrivando! Vienici a trovare! Domenica 24 dicembre dalle ore 15 e 30 in poi a Silvi Marina Piazza Marconi ci divertiremo insieme! Musica, animazione, elfi e Babbo Natale! Caramelle a tutti i bambini! Scrivi la tua letterina e consegnala a Babbo Natale che ti accoglierà nel suo favoloso bus speciale! Ci sarà lo spettacolo con il folletto Pigus e le telecamere del programma Itinerari! Ho ho ho! Non mancate! Ho ho ho!